Salve a tutti Cristaline e Cristaline, come leggete da titolo oggi sono qui insieme a Noemi e a Sofì per aprire delle altre box surprise o buste surprise di Tiger. In questo giro abbiamo tre buste, una piccolina bimba e un'altra ragazza. Da quale iniziamo? Da quella piccolina? Da quella grande? Da quale? Questa a casa ed è ragazza. Come sempre attenta alle spille. Vediamo se ci vale 5 euro. Già cominciamo con un no. Che cos'è? Un nuovo vulcano? Mi ricorda tipo le sfere. Va bene. Questa cosa dovrebbe essere? Un portodocumenti? Cartellina? Portodocumenti? Va bene, utile. Già, già vedo una cosa bellissima. Una penna. Colore? Blu? Blu. L'ultima volta forse l'abbiamo trovata nera? O blu scuro? Che era alla fine? Credo questa nera. Oddio ma è quella che si gira tipo? Sì. Ma si gira? Sì? Sì. Oh no. Non è rotta. Non è rotta. Wow. Poi abbiamo... Oh mamma. No. Cos'è? Ma quel... Oddio è più piccolo. È più piccolo però. Che tipo matriosca? Li mettiamo uno dentro l'altro? Sì, fai lo prendi l'altro subito. E non so dov'è. L'abbiamo conservato. E poi non c'è più niente. Va bene. Allora. Io sono io. Io direi che 5 euro sto giro. Forse, forse, forse... Grazie. Però guarda, se la guardi così sembra che deve essere il fumo dal vulcano, che deve essere la lava dal vulcano, immagino. Il coso, punto. Io va bene, ok. Ok. Prossimo. Piano. Questa era? Bimba. Bimba. Scusate, è un'ultima luna. No. 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 Piano. Sempre fiori, 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 le anze. No. Vabbè. L'ultima era gialla. Cos'è? Oh mio Dio. Che dovrebbe essere questo? Ma perché è una bambina? Il giocatore... Oddio, è quello che si appiccica tipo... Il tuo microagno. Ma è quello che si lancia? Che si appiccica. Il tuo microagno. Questo è? Eh, va bene. Scusa, non ce l'ho detto. Non mi ricordo cos'era. Ah, bimba. Quindi potrebbero essersi altri insetti? No, c'è il gilano. Ma poi io avevo gli insetti vado a fare il bimbo. Allora, quella era per ragazza. Ma anche per bambina, allora. Anche per bambina? No, che cos'è sta cosa? La stella. La stella. Sei adesivi a stella. E te la prendi fuori dalla porta e ci scrivi il nome. Un paio di carte. Glow in the dark. Ah! Le carte che si illuminano orgogli. Se vogliamo giocare a carte orgogli. non ne posso più dai abbiamo tutti i tre colori la ragazza e la bimba mangiano la stessa cosa cioè io vorrei capire tra bimba e ragazza si a parte le stesse porzioni va bene ok mi piace di più questa perché ci sono le carte questo è carino e questo anche il fatto che l'abbia ritrovato la penna la più bella sono indecisa tra questa e questa mi piace di questa la penna ecco se noi facciamo una cosa del genere che questo lo leviamo lo mettiamo là i due contenitori qua queste due cartellette così sarebbe una bella posta va bene e niente ragazzi allora quindi la mia preferita mi sa che è l'ultima tra questa e quella con la penna questa è custom si questa fatta da noi è meglio non mi mettere che schifo questo lo andrò a buttare subito perché non mi piace proprio non panzerà non lo aprire non lo aprire tanto ragazzi questo è quello che abbiamo trovato nelle buste di tiger non sono proprio contentissima perché troviamo parecchi doppioni però dai almeno sono un po' utili soffì stai ferma con corragno spero il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao